Oggi pomeriggio sulla nostra pagina Facebook verrà pubblicata sia la lettera di dimissioni dell'assessore Spinelli che la risposta che ha dato il sindaco dell'amministrazione comunale ringraziandolo per ciò che lui ha fatto fino ad oggi, si è impegnato, è un giovane che è entrato in politica e in un momento molto difficile naturalmente ha cercato di fare il meglio di quello che si poteva, come facciamo tutti d'altronde nella nostra quotidianità, non ci dimentichiamo che ci sono stati anche due anni di pandemia, quindi per chi si affacciava alla politica il compito è stato ancora più ardo. Credo che nella lettera traspaiano chiaramente quelle che sono le motivazioni dell'assessore Spinelli che è un momento in cui debba pensare ad altro e io lo capisco benissimo perché un giovane di 28 anni che si affaccia al mondo in generale credo che debba fare le sue valutazioni, abbia tante altre esigenze di carattere privato che lui debba soddisfare e quindi io lo apprezzo per questo passo che lui ha fatto perché probabilmente non ritiene più di poter svolgere in maniera egregia e ottimale come ha svolto il suo compito fino ad oggi e ha fatto questo passo indietro e ha precisato chiaramente che lui rimarrà in maggioranza e io posso aggiungere che continuerà ad avere anche un ruolo operativo che verrà comunicato all'esito della riunione che noi terremo con il gruppo di maggioranza. Poi se il giornalista di turno fazioso si invenda la notizia di un rammarico per il mancato raggiungimento di obiettivi che nella lettera non è stato scritto, questo è un problema del giornalista fazioso come capita spesso nei servizi che fa il giornalista fazioso e quindi ognuno se ne prenderà le conseguenze di quello che è dichiarato o deve dire da dove ha appreso questa informazione. D'altronde la gente potrà tranquillamente leggere le due lettere e capire qual è la realtà delle cose. Questa era giusta una precisazione, ma a me quello che interessa è che la squadra amministrativa continuerà con il consigliere Spirelli che avrà il suo ruolo e cercheremo di portare a termine, anche perché noi siamo a metà adesso del nostro percorso della consigliatura, porteremo a termine il mandato che ci erano dati gli elettori con tante cose che sono state fatte e tante altre che devono essere fatte. Alla luce sempre non dobbiamo dimenticare del periodo pandemico che noi abbiamo vissuto. I giovani credo che debbano essere spronati, debbano essere motivati, ma bisogna rispettare anche quelle che sono le loro ragioni perché quando si è giovani si ha una vita davanti e bisogna fare le proprie valutazioni.